Buongiorno a Nathalie! Battiscopa, li facciamo a Fidenza, un regalo per il buon anno. Due per te, due per te, da Fidenza, vicino a Parma. Grazie. Grazie del regalo. Marmo, Fidenza, Battiscopa, per te. No, Battiscopa. Battiscopa sono, di Fidenza li facciamo noi a Fidenza. Due per te e per il tuo gruppo. Oh, grazie. Grazie. Puoi chiedere se conoscono gli Udugurus? Do you know the Udugurus, Australian group? No. Se non lo conosce. No, non li conosco. Oh, thank you. Grazie del regalo. Ecco. Thank you. Thank you very much. Piramidia. Piramidia. No, non ne posso più. I piramidia. Do you know piramidia? Do you know the Udugurus? No. Do you guys? Voi li conoscete? Udugurus. The Udugurus? Ah, the Udugurus. Ah, sì, certo che li conosco. Ok, 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 ok. Ok, ok. Thank you. Complimenti per questo singolo che viene da un album che si chiama White Lilies Island. What is White Lilies Island? White Lilies Island is where I live. Questa è l'isola dove vivo. Vivo su un'isola vicino in Inghilterra appunto. Quello si chiama White Lilies? Sta parlando la signora di che traduce? Viene da White Lilies? Sì. Poiché lo è stato fatto? Sì. Sì. L'ha trovato. Guarda io. Trova un'altra domanda. Trova un'altra domanda. Thank you, Nathalie. Thank you to your group. Thank you so much. Have a good journey here in Milan. Thank you to Nathalie Imbruglia. Grazie. Grazie. Grazie.